Ciao a tutti, eccomi qua per la quarta Trial of the Gods Il video è speeddato, non l'ho fatto il commento al momento perché sennò sarebbe stato un video di 30 minuti Quindi ho deciso di farlo veloce e farvelo vedere così Allora, ci sono tre incontri Nel primo incontrate Zephu e Lario Allora, Lario fa Poison, però non è il primo che dovete abbattere Dovete ammazzare subito Zephu perché altrimenti dopo 5 round, 5 turni Vi fa una OE da 10.000 di danno, mitigabile, però sono sempre 10.000 di danno Quindi il mio consiglio, diciamo, è concentrarvi su Zephu e poi dopo uccidere Lario Lario lo potete uccidere anche con gli attacchi normali Almeno così avete tutte le barre dei Brave Bust attivi per il turno successivo Come potete vedere nei miei oggetti mi sono portato anche gli Idoli Perché diciamo che sono il piano B per passare il secondo stage Dunque, nel secondo stage si incontrano Mei e Emilia Allora, Mei è molto debole, però fa... Al quarto round vi fa una OE che vi fa malissimo Emilia invece non fa tantissimo danno Tranne nel momento in cui non passa... Non va sotto il 75% di vita e il 50% di vita Quindi dovete fare attenzione su questa cosa qua Mei invece quando va sotto il 75% e sotto il 50% Vi fa uno scudo che vi raddoppia la vita Quindi in teoria la tattica sarebbe Si danno qualche colpo a Mei La si porta sotto il 75% E poi si porta sotto il 75% Emilia Così Emilia vi spara la OE Vi toglie via 15.000 di vita Però voi avendo il doppio e dovete ricordarvi anche di portare Unità che hanno più di 8.000 o più di vita E in questo modo riuscite a sopravvivere Fate così due volte In teoria dovreste arrivare al terzo round E al quarto round uccidete subito Mei E poi vi dedicate a Emilia Che a quel punto lì non sarà proprio pericolosissima Anche se comunque ha un buff che gli fa fare danno anche da fuoco E da E da acqua se non mi ricordo male Quindi Un'alternativa Io dato che sono un fesso Ho sbagliato Ho portato Mei direttamente sotto il 50% di vita Quindi E' successo che Ho dovuto usare l'altra tattica Un'altra tattica è se siete Molto convinti del vostro danno Che ne fate abbastanza Io ho messo Orashil Che ha il suo Super Brave Bust Che gli da come un Angel Idol Ho messo l'Angel Idol A tre A tre mie unità E le altre le ho orressate Però nonostante tutto questo Poi dopo Varie peripezie Emilia è riuscito a uccidermi lo stesso Il mio Zell Knight Anche perché Il mio è Oracle Quindi è morto In una maniera Molto indegna L'ultimo incontro Poi è contro L'Omega Bemoth Che anche qui Questo diciamo Il terzo scontro Non è troppo difficile Allora L'unica cosa Nel quale io ho sbagliato Perché mi sono dimenticato E' che l'Omega Bemoth E' sì Un'unità di tuono Di fulmine Però Si fa lo scudo Uno scudo di fuoco Quindi Anche a quel punto lì Il danno Il danno fire E' cioè Ehm Come dire Il danno di terra E' non era abbastanza Sufficiente Per togliergli via Velocemente lo scudo Anche perché Questo scudo Se lo fa più volte E inoltre si può anche curare Ehm Io qua Ci ho messo 30 minuti Perché effettivamente Ci ho messo 20 minuti Solo per tirarlo giù Il Bemoth Perché il primo I primi turni Continuava a farsi lo scudo Però non è una cosa fissa Che tipo si fa un turno Sì un turno No Oppure ogni turno E' una cosa Molto random Infatti Come potete vedere dal video Sono successi Sono passati anche diversi Round Ehm Dove Non si faceva Ehm Lo scudo E quindi sono riuscito a portarlo Ehm Giù di vita Ehm Nel caso Nel caso Vi potreste portare Un'unità di acqua Per andare un pochettino Più veloce Io per fortuna Con Melchio Che fa il danno Di tutti gli elementi Mh Sono riuscito Riuscivo in questo modo Ehm A tirargli giù Abbastanza veloce Lo scudo Nonostante avessi Due unità di terra Cioè Dilma Che era Il mio Hard Hitter Ehm Che però Non gli faceva niente Quando Quando aveva lo scudo Addosso Mh Il mio consiglio Dopo averlo fatto E portarvi Innanzitutto Unità che fanno I Brave Bust Super Brave Bust singoli Tipo Lilith O Logan Che potete scegliere Invece di fare il Super Brave Bust Fate il Brave Bust singolo Ehm Che fanno molto Che fanno molto danno Sul singolo Sul singolo bersaglio Ehm Questo Era perché Era una Era una mia prova Che non pensavo neanche Di passare No Era giusto una prova Che volevo fare Però alla fine Ehm Ci sono riuscito E così Sono riuscito a finirlo Ehm Spero che comunque Questo video vi sia d'aiuto Se Se vi piace Mettete un mi piace Sul video Mettete anche Sulla pagina Facebook Ehm Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Ehm Al prossimo video Che penso di fare La La quinta La quinta trial E ciao ciao Ciao